La carenza di medici e di personale sanitario sta diventando drammatica. L'Italia aggiunge la miopia di finanziare la formazione di un numero importante di giovani medici e di regalarli poi a paesi in grado di accoglierli a braccia aperte. La carenza di personale medico ed infermieristico della medicina d'urgenza e emergenza ha ormai raggiunto proporzioni critiche. Sempre più medici scelgono di non impegnarsi nell'attività pubblica, sempre più difficile pensare ad una sanità privatizzata piuttosto che programmare di investire in risorse economiche per tutelare la salute del cittadino. La sanità vive uno stato di crisi e ciò che preoccupa di più è la sempre più forte contrazione e riduzione dei medici al servizio dei pazienti che con il blocco delle assunzioni ancora in atto e la fuoriuscita di specialisti con la legge 100 non può che destare allarme. È una delle riflessioni fatte stamani dal presidente dell'ordine dei medici di Salerno Giovanni D'Angelo a margine della presentazione del convegno in programma il prossimo 4 maggio a Salerno dal tema l'evoluzione del sistema di formazione continua nel settore salute, stato dell'arte e dati. Mi preoccupa questo perdurante allarme che diventa sempre più a voce sempre più alta. Ora al di là di quelle che sono le esigenze di ascolto che determinano questa forzatura anche di notizie quindi questa preoccupazione c'è realmente un grosso grosso problema che si potrà presentare a breve anche perché voi lo sapete blocco delle assunzioni blocco dei contratti difficoltà per i giovani andata via di molti giovani dal nostro paese e a tutto questo si è aggiunto come se non bastasse la legge 100 che chiaramente offre la possibilità per professionisti che già sono ovviamente usurati dalla loro professione anche se questa professione non è riconosciuta come usurata. Io non è che ci tenga molto personalmente insomma ma penso che professionisti che si alzano a qualunque ore, le notte, i festivi eccetera forse qualche po' di usura ce l'avranno e sarebbe stato opportuno ma adesso quello che ci preoccupa è quello che lei sta dicendo. Si stanno tendendo varie strade per cercare di rimediare assumendo anche giovani prima ancora che questo possa avvenire secondo le leggi attuali mettendoli in pista in modo che nel momento in cui conseguono una specializzazione possano entrare sul lavoro. Un aiuto lo potremmo avere dal fatto che la Regione pare che stia attivando, speriamo, ma sarà dall'anno prossimo, non da quest'anno, il corso per l'emergenza che porterà giovani all'interno delle strutture diciamo di assistenza di emergenza ma quello su cui dobbiamo puntare e voi ci potrete dare una mano è nel creare e nel far capire ai cittadini che se è un momento difficile per la sanità, questo non è una ragione per prendere le distanze dal professionista sanitario ma semmai è un momento in cui loro devono essere molto più vicini a noi di quanto noi non lo siamo, ci devono assistere praticamente.